A Security Essence siamo con Rudy Foini, Managing Director di Protect Italia e Germania. Quali sono le sensazioni di questa fiera e quali le sensazioni del mercato Italia-Germania? Sì, grazie mille. È un grande privilegio per me poter rappresentare il gruppo Protect anche qua in Germania. Le grandi differenze che oggi ho notato sono le aziende, ovvero in Germania si trovano aziende molto più grandi e ristrutturate, ma con le stesse identiche esigenze delle aziende più piccole che ci sono anche in Italia. Perciò la ricerca del vantaggio competitivo, il quale è il sistema nebbiogeno. Benissimo. Per quanto riguarda la linea di prodotti che presentate qui, ho sentito dire che c'è un'anteprima molto interessante. Sì, c'è un'anteprima molto interessante che fino ad oggi hanno conosciuto solo i nostri partner e partner VIP in una convention che abbiamo organizzato su Lago di Garda, ovvero il modello Cumulus, il primo sistema nebbiogeno per le abitazioni, per il residenziale e per le case private e l'evoluzione della linea che tutti conoscevano, il modello 600i-1100i-2002, ovvero la serie I, che è stata raddoppiata in termini di potenza di erogazione e sono stati aggiunti contenuti tecnologici come il bus e il wireless. Quindi qui abbiamo già visto qualche anticipazione anche per sicurezza, dico bene? Certo che sì, a sicurezza troverete tutti quanti i prodotti che stiamo esponendo anche qua a Essen e che anche in un mercato tedesco molto complicato e molto critico in termini costruttivi ha fatto un grande successo, ha riscosso un grande successo. Benissimo. Arrivederci a sicurezza. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.